ciao ragazzi qui playale bentornati come potete ben notare il villaggio è un po diverso abbiamo una torre qui nella collina un'altra torre qui nella collina abbiamo terminato i nostri due punti vi spiego brevemente che è successo ieri quando ho registrato allora nei giorni precedenti stavo provando dei nuovi formati per il video per avere una qualità diciamo migliore l'unico problema è che ho registrato in multitraccia e nel formato in cui registrato ieri purtroppo quel formato non non supporta il multitraccia quindi per avere audio desktop e audio microfono e quindi ho perso non è che l'ho perso l'episodio è stato registrato però senza voce quindi per evitare di darvi un parlato scazzato frustrato anche e comunque sia non in diretta ho preferito ho pensato quasi di appunto ero lì per lì a dire ma dai registro nuovamente e metto semplicemente la mia voce sotto però mi sono detto no no non è uguale dai voglio voglio essere bello arzillo e tranquillo tra l'altro ragazzi un'altra cosa stiamo costruendo il cerchio di pietre ci vogliono dei megaliti che sono queste ammassi di pietre abnormi che ieri nel video mostrava appunto quando lo trasportavano o perfetto qui abbiamo un megalite che stiamo solo aspettando il cuoio due di cuoio quindi non appena sarà pronto vi mostrerò come come muovono questi questi ammassi di pietre gigantesche o meglio giganteschi primavera ok quindi tra un po sarà autunno autunno estate oddio non ricordo più no estate mamma mia ok è arrivato un mercante vediamo cosa da offrire scambio medio niente di che niente di che ha tra l'altro avevo intenzione di sbloccare la domesticazione dei legumi perché è nato un nuovo animale pecora ottimo a tra l'altro ho costruito una nuova stalla perché il numero dei nostri animali è cresciuto risorsa deperita pane ma già è vero perché il pane ovviamente deperisce un po come non so il formaggio la carne tutto deperisce giusto perciò e se si aspetta troppo troppo tempo per per consumarlo ovviamente tende a rovinarsi come nella realtà ovviamente ok vediamo un po se becchiamo i nostri popolani alla volta del di muovere queste questi megaliti sembrerebbe di no continuo a dire due di cuoio sai che c'è io metto in posta priorità alta e non appena avremo due di cuoio penso presumo che andranno a costruire la slitta perché ovviamente quel già qui abbiamo dei lupi questi fetentoni ieri hanno fatto baldoria con i nostri popolani perché guardate femmina anziana sta c'è sta sta cacciando dicevo questi fetentoni hanno fatto baldora ieri con i nostri popolani perché ci hanno ha fatto fuori un bel po dei nostri purtroppo e quindi penso sia giunto il momento di eliminarli quanto prima perché sono molto pericolosi i lupi sono molto pericolosi sono veloci sono forti hanno un sacco di vita a quanto pare vediamo qui ho salute 84 ed è una femmina anziana insomma oltre che appunto vedete vanno ad uccidere la cacciagione che giustamente servirebbe a noi perciò ricordiamo a questi lupi chi è diciamo il all'apice della della piramide facciamoci anche questo maschio adulto via e magari questi due giovani potremmo provare a catturarli anche i piccoli adesso stanno andando verso il il maialino no 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 meglio farli fuori quanto prima perché sono pericolosi ok ok attacco lupo molto bene però andati direttamente alla lotta alla così a avviso aperto con coltelli anziché utilizzare gli archi questo il maschio adulto dice mi avete ucciso i compagni cattivoni è morto ah sì la nostra e mand penso gli abbia tirato con con l'arco ecco qui guardate ragazzi stiamo tra l'altro stiamo cercando di addomesticare questo lupo anche perché ottimo nell'ultimo episodio abbiamo perso anche un bel po di cani chi per per vecchiaia chi invece per semplicemente per durante la caccia io voglio o ecco qui ma povero girek dai anziano mischino da solo sta trasportando da solo povero ieri per esempio oggi dove sei ecco qui da solo ovviamente lento come un lumacone ieri invece lo nel video appunto mostravo lo stavano trainando in quattro però molto probabilmente tu dove vai prendendo megalite si ma se la prende anche con molta calma noto e tra l'altro anziana anche lei insomma deve essere che non lo so magari in questo villaggio per tenere la gente ancora arzilla sino all'ultimo magari chi lo sa il trainare un megalite con la slitta magari fa bene ovviamente girek è stanco morto infatti sta andando a prendere il pane e molto probabilmente andrà anche a dormire ok perché stiamo costruendo il cerchio di pietre perché sarà ovviamente una meraviglia molto importante per il villaggio per per quanto riguarda appunto per aumentare il prestigio aumentare il prestigio a tal proposito 39 su 42 non appena attacco lupo intanto che andiamo a guardare o attenzione questo gruppo addirittura entrato nel villaggio in andata male però è presente estate come se fosse stato tranciato da un trattore da un carro armato 1 2 3 4 cani tutti dritti con incontro dicevo non appena avremo un attimino di tempo con i nostri popolani ovvero che non saranno troppo che non siano troppo impegnati con altri lavori intanto sblocchiamo la domesticazione dei legumi che non siano troppo impegnati con altri lavori specialmente la raccolta del farro andremo ad aggiornare questa bella casettina qui questa bella tendina e poi altra cosa molto importante intanto purtroppo draghe ci ha lasciati sono nati due pecore ottimo dicevo perché ho sbloccato ecco mi sono perso un attimino perché ho sbloccato la domesticazione dei legumi perché ho scoperto che i legumi li possiamo piantare d'inverno e poi li si raccoglie tipo in estate primavera adesso non ricordo forse autunno non mi vediamo un attimino qui avevamo dei legumi se non erro lino autunno ok stanno raccogliendo in autunno ma forse allora non lo so se lo voglio fare un attimino cerchiamo dei legumi se non erravamo dei legumi qui in queste zone piccolo farro orzo orzo no fagioli in estate ok perfetto intanto guardate ragazzi il nostro bangol e la nostra haran stanno trasportando merite effettivamente si vede che va più veloce ovviamente c'è un uomo giovane e una donna anziana ok però si nota la differenza ok dunque a tal proposito andiamo un po attacco lupo chi è maledetto non la nostra pecorella e mo si mangia anche la nostra percorrere la stoffa e tentone c'è un arco sì ma se io tipo schiacciarsi ha funzionato schiacciato sui dei e poi destro lupo appena scoperto una una cosa nuova vediamo quel cane no il cane no il cane non funziona però funziona inseguendo lupo ok ottimo quindi dai l'ordine al al popolano e poi un cane vedrà di andare appresso ok ottimo annaggia sto lupo a chiotto ci ha ucciso la pecorella no vabbè 126 altissimo ma tutto stiamo facendo a abbè ovviamente stiamo fabbricando farina come se non ci fosse un domani tra l'altro ragazzi 66 di carne 9 di pesce 34 di pane ultimamente stiamo vivendo praticamente davvero quasi come se fosse un età dell'oro per il villaggio stiamo fabbricando un sacco di pane nel vero senso alla parola lo stiamo piantando certo lo stiamo raccogliendo pianta adesso andremo a piantare vediamo fagioli vecciola ceci lenticchie io adoro le lenticchie quindi io di andrei di lenticchie bello mi piace poi tra l'altro il bello è che ma già adesso dobbiamo mettere la priorità ovviamente mettiamo quindi la priorità massima tutti i campi ecco qui vedete inverno e quindi i campi sono pronti per essere coltivati ok scusate sto passaggio ragazzi un po lento è un po così un po stupido anche da guardare con me che do la la priorità ogni singolo quadratino però è la maniera migliore ho notato per quando si hanno appunto i campi in modo tale che non venga perso neanche un quadrato del campo diciamo dai selezionati tutti penso di sì sì dai penso di morte per vecchiaia turgor mannaggia turgor purtroppo ci ha lasciato turgor ok o tra l'altro ragazzi le torri di guardia sono fenomenali praticamente i nostri popolani andranno all'interno e tireranno con le frecce con le o addirittura con le lance ho visto anche le lance perché nel vecchio episodio ci hanno attaccato appunto è tanta roba perché all'interno delle torri non vengono feriti quindi aiutano tantissimo quindi io cosa ho pensato costruito in questa collinetta qui una torre di guardia e poi un'altra qui adesso addirittura potremmo anche pensare di magari se nel caso in cui ci fosse possibile vediamo un po messi un anche qui anche qui addirittura in queste colline in modo tale da essere da essere completamente difesi da da tutti da tutti i lati del villaggio poi certo potremmo pensare anche di perché no farne un'altra magari in questa piccola collinetta in quest'altra più un poco più più grande sono cose che a cui dobbiamo pensare ok 40 su 42 46 bilanciato sai che c'è allora io aggiornerei questa tenda in capanna ok vediamo un po se abbiamo tutto bastoni alla grande 47 41 tronchi 1 di selce eiaiai non abbiamo cuoio però non abbiamo del cuoio vediamo se ci serve no ci serve il foraggio che lo abbiamo per cos'altro la argilla che non ne abbiamo hanno sì 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 scusate 31 scusate scusate che sto dicendo non ne abbiamo siamo pieni selce ragazzi mamma mia non me ne ho accorto vediamo un po se abbiamo dove produzione si miniera di selce ok vediamo un po se abbiamo sì ottimo 12 e questo cos'è selce perché no che fai te ne privi no e 3 via l'abbiamo fatta luogo con un valido ma che dici ecco qua ok ok e per un bel pezzo saremo a posto con la selce ok ho già adesso siamo impegnatissimi con allora questo quando sarà pronto non mi ricordo già più qua adesso dobbiamo lavorare i campi tra l'altro ci sono un sacco di pecore che dobbiamo macellare perché sono tutte femmine anziane quindi ormai non producono più lana penso e forse per quello che appunto le macelliamo 158 per cento e ma ad altrove lo sappiamo la primavera l'inizio primavera è sempre bello movimentato per i nostri popolani il fatto dei campi e poi non scordiamoci anche tutto il resto i campi la raccolta di risorse insomma è sempre un momento particolare quello della primavera per lo meno l'inizio primavera questo cos'è un cervo maschio bellissime le corne guardate qui che belle corna fantastiche belle belle ok e abbiamo finito la nostra prima o meglio abbiamo preparato la nostra prima miniera di selce con all'interno 50 unità ottimo quindi facciamo 50 e 100 150 unità di selce tanta tanta roba queste selce ok ottimo anche qui potremmo fare una miniera quando avremo quando finiremo queste però non voglio non voglio pushare troppo diciamo dai ok un'altra tempesta siamo attenti alle tempeste ragazzi non abbiamo selce sì ed è proprio per questo che stiamo costruendo le miniere 40 su 43 ok arrivato mercante vediamo cosa da offrire la nostra virand domesticazione del lino anche no anche no ma se se permetti il cuoio valore 5 valore 1 legumi cosa possiamo barattare per il cuoio 49 abiti di pelle valore 10 e beh perché no dai allora 42 40 e sì due arpioni di legno via grande ottimo 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 non vedo l'ora ragazzi di di farvi vedere il cerchio di pietre selce come siamo messi ancora zero slitta con megalite costruita ah ecco qua ok e tra l'altro megalite sono sono andato a prendere un po dappertutto ce ne servono sei in totale qui ne abbiamo tre adesso quindi altri tre e forse prendendo megalite si è un procedimento lungo è vero però ragazzi ci ripagherà alla grande con per quanto riguarda il prestigio oh e tra l'altro il fieno come siamo no 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 va bene dai no no va bene abbiamo ancora spazio quindi va bene e guardate come cresce il nostro farro come per magia così voilà ok abbiamo detto 40 su 42 estate ok quindi il le lenticchie le raccoglieremo ogni estate ottimo ottimo tra l'altro le lenticchie un po' come tutti i legumi ovviamente non dovremmo fare la macinazione quindi fare la farina e poi il pane no semplicemente le cucineranno e se le mangeranno un po' come nella realtà insomma ragazzi non è che non è che ve lo devo dire io sapete meglio di me ok allora trasporto non più utilizzabile slitta se non erro non esiste una maniera per costruire le slitta automaticamente perché se ci fosse sarei l'uomo più felice del mondo perché farle manualmente ogni volta è una è un po' una scocciatura ammetto è un po' una scocciatura però che c'è voi va ok allora estate è quasi conclusa quindi non non mi fiderei a fare a iniziare il lavoro per la per l'aggiornamento di questa tenda però è un qualcosa che voglio fare intanto ragazzi ecco qui vediamo i nostri quattro pro di uomini oila sembrano dei dei trattori lamborghini come trasportano questo megalite nella salita dai 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 no ragazzi ah no stanno andando ad aiutare una mano a a un altro oh i predoni arrivano i predoni ammazza oh sono già qui sono già i nostri campi ok quanti siete siete uno e due solo due ok armati di lancia e ascia ok però questo ragazzi è perfetto perché vi posso far vedere come funziona la torre di guardia ah no sono in tre sono in tre quindi una lancia e due asce via difendi ok tu con calma eh mando con calma non ti preoccupare non c'è fretta ci stanno solo attaccando non ti preoccupare ok dove vai arco ottimo e tu anche imin all'arco perfetto ragazzi questo è perfetto quindi vi posso far vedere come funzionano le torri di guardia intanto un nuovo umano si è unito all'insediamento ottimo e vedete come gli tirano e loro sono qui belli protetti all'interno senza subire alcun danno ovviamente la torre subirà i danni al posto dei nostri uomini e donne ma niente di insomma di insommortabile la torre semplicemente la si può ok togliamo l'allerta la torre semplicemente la si può riparare quindi non è un problema al costo di foraggio un tronco e cuoio ok via velocizziamo 43 su 43 ok abbiamo raggiunto il massimo livello di popolazione però nuovamente oh Ghirvec ci ha pensato Ghirvec ragazzi deve essere detto oh raga abbiamo raggiunto il massimo e allora mi lascio andare povero Ghirvec ok ok c'è una slitta volante qui forse abbiamo terminato no 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 abbiamo un sacco di posto sicuramente qualche pelandrone ha deciso di lasciarla lì magari qui come siamo messi no abbiamo ancora tanto spazio sì sì abbiamo ancora tanto spazio ok attacco lupo attenzione ah femmina anziana però Kerza la nostra coraggiosa Kerza non ha avuto pietà della della lupacchiotta ok adesso andremo di raccolta di di farro e non appena la raccolta del farro sarà terminata allora direi che possiamo aggiornare una delle nostre tende una o due magari dai vediamo un po' qui quanto un megalite è rimasto ok ottimo quindi era quello che stava trasportando Kerza ecco qua ok quindi Ghirvec e la nostra mannaggia non riesco a oh oh eh no ragazzi io ve l'ho detto questi lupi sono dei ma è un po' come in realtà avete visto gli stavano andando le spalle e hanno attaccato stifette e intoni via andiamo tra l'altro stavano portando il megalite niente si sono fermati di nuovo c'è una slitta qua vagante ok se la stanno portando dietro eh ok i mag sta cercando di portare sto megalite il carico di lavoro è troppo elevato e questo lo sappiamo già però una volta che i campi esatti i campi sono stati terminati va bene sempre molto elevato però eh 151 mazza stiamo tutto ma cosa stiamo facendo di così tanto compiti via fatemi guardare pane pane a buttatura stiamo facendo un sacco di pane un sacco di pane infatti abbiamo il carico di lavoro che è altissimo perennemente altissimo trasporto non più utilizzabile slitta va bene questo lo sappiamo già ma stiamo costruendo una marea di slitte perciò non c'è problema cosa ci manca? cuoio e bastoni bastoni che ne abbiamo tantissimi sì 37 il cuoio la verità ultimamente sta scarseggiando tantissimo ma c'è anche a dire non stiamo cacciando neanche più così tanto perciò è normale insomma ecco tanto tutte le nostre slittine stanno andando a rompersi a rovinarsi magari aggiungerei alla lista è vero che siamo già impegnatissimi però le slittine servono tantissimo perciò aggiungerei alla coda altre slittine da costruire e Ghirek ci lascia purtroppo per vecchiaia ok 152 eh sì perché adesso stiamo tra l'altro coltivando il campo delle lenticchie e siamo in pochissimi mannaggia dai 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 ragazzi dai non possiamo perdere l'occasione dai forza ok ok i nostri fattori continuano ad arrivare poi ovviamente una volta che sbloccheremo la oh mannaggia ragazzi 19 punti non mi ero manca accorto ok andiamo a sbloccare la domesticazione del lino sì e la domesticazione dei maiali perché non ho fatto la fusione del rame quindi sbloccare l'età del rame perché voglio ancora completare qualcosina qui nel neolitico perché una volta che si va ho controllato ragazzi una volta che si entra nell'età del rame animali quali non lo so il mammut il bisonte antico l'orso speleo ecco questi qua tutti questi animali il megaloscero tutti questi animali andranno a estinguersi quindi una cosa che appunto volevo guardare dov'è progresso conoscenza ecco per evitare di perdere i punti per evitare di perdere i punti magari vorrei cacciarli ecco perché i punti conoscenza comunque sia ragazzi sapete benissimo ormai conoscete il gioco come me sono importantissimi appunto per ricercare per ricercare nuove scoperte appunto quindi abbiamo detto un megalocero perché non cercare un megalocero questo cos'è bisonte non sono antichi però sono bisonti ok quindi sono già del nostro tempo non mi pare di vedere megaloceri eccolo qui ce n'è uno bello grande un bel maschio con le corna e poi anche una femmina adulta dai mammut non lo so non so se li becchiamo i mammut quelli qualche episodio fa ne avevamo fatto man bassa di mammut ne avevamo ucciso un bel po' chi lo sa forse erano davvero gli ultimi chi lo sa anche perché ripeto le migrazioni tutto il resto insomma gli animali migrano si muovono e quindi a volte non ci sono proprio nella mappa alle volte quindi è anche difficile per quello a volte trovarli nonostante siano grandi però non mi sembra di vederli non mi sembra di vederli scusate ragazzi se sto facendo sta volata eccoli qui perfetto ok sai che c'è qua voglio essere proprio come diceva Carlo Verdone ovamo strano li voglio fare tutti 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 lo so che va a mostrare non c'entra nulla con quello che stavo dicendo però volevo volevo dirlo volevo dirlo ragazzi mi sento esuberante non so perché sono stanco morto però mi sento esuberante ok allora quanto vale il legume uno valgo un poco valgono poco il pane quanto vale vale uno solo uno la farina vale uno e il pane uno questo è un po' sbilanciato il pane almeno dato che è un prodotto lavorato avrei preferito avrei gradito insomma un valore più elevato rispetto alla farina però e ragazzi attenzione perché ci siamo quasi siamo quasi pronti a terminare il cerchio di pietre ok sai che c'è io metto anche la priorità alta perché vi voglio far vedere vi voglio far vedere e voglio anche far vedere a me stesso perché non l'ho mai costruito prima di prima d'ora quindi voglio vedere un po' cosa succede anche qui come per magia le pietre boom pausa preda scappata no 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 assolutamente no dove sono i nostri cacciatori eccola qui tesoro no dai vai qui ah pausa 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 non perdiamoci il cerchio delle pietre ecco qua aumentiamo un poco però dai preda scappata megalocero eh dai ma su dai dai no non mi interessa adesso voglio vedere come finisce qua scusate mi voglio tenere un attimino ci siamo sì finito conoscenza addirittura più 3 tanta roba e una pietra miliare sbloccata megalomania conoscenza più 2 ottimo e da 60 di prestigio ragazzi 60 di prestigio andiamo a guardare gestione statistiche sì adesso andiamo a 240 di prestigio però benessere 91% lo possiamo anche leggere indica l'andamento del tuo insediamento dipende dalle statistiche del popolo dai vestiti e anche dalle scienze di cibo influisce sulla frequenza di arrivo dei migranti e sul tasso di natalità mentre il prestigio indica ovviamente la notorietà del tuo insediamento dipende dalla popolazione degli edifici delle tecnologie influisce sull'immigrazione e sulla frequenza di arrivo dei mercanti ok quindi sappiamo che l'arrivo di mercanti e immigrazione dipende dal bene scusatemi dal prestigio il benessere cosa fa il benessere il benessere fa praticamente copulare nel vero senso la parola i nostri uomini e donne per andare ad aumentare poi il livello della popolazione e abbiamo un attacco del mammut sai che c'è ci guardiamo questo e poi ragazzi ci salutiamo è stato velocissimo grandi ragazzi grandissimi 11 di carne 7 pelle grezza e 3 di ossa tra l'altro carne e cane abbiamo tantissima abbiamo 37 di carne 9 di pesce 42 di pane ragazzi io l'ho detto un'età dell'oro una vera e propria età dell'oro altri cacciatori qui pronti per andare a cacciare il mammut una vera e guardate quanti sono una vera e propria età dell'oro per il villaggio tanta tanta roba ragazzi sono molto molto contento di come sta uscendo anche la serie mi piace come sta uscendo bella vivace con tante cose nuove da vedere da apprendere bella bella mi piace pausa ok ragazzi ancora una volta io vi ringrazio immensamente per essere stati con me chiedo ancora venia per ieri mi dispiace avervi lasciato senza video vi abbraccio tutti fortissimo e ci vediamo presto ciao